Namaste a tutti amici del Magico Liere, Bucolic Version, sono molto contento di essere qui a fare questo video invece di andare al mare, no dai sto scherzando, sono contento e mi fa piacere, anzi per mostrarvelo voglio creare un po' di atmosfera solo per voi, ci stanno bene, poi sono sempre poetici, soffioni, vabbè basta, no forse non ci siamo capiti, dalla regia ho detto basta, vabbè che non vi do una lira ma, però se vi dico basta, basta apprezzare il bottone, stop e così smette di venire giù queste cose, poi non c'entra nulla ora questi, ecco così va meglio, un semplice gioco di magia che si realizza con una moneta, un foglietto di carta e una penna, questa penna qui facciamo finta che sia la nostra bacchetta magica e la mettiamo qua, se fossi in piedi la metterei nella tasca dei pantaloni o se avessi una giacca la metterei nel taschino, ma essendo seduto in primo piano, in primo piano e senza giacca mi arrangio in questo modo qui, si prende la moneta così e si mette dentro il foglietto e si realizzano una serie di piegature, dal basso, da sinistra, da destra e dall'alto, adesso la moneta è qua, ben visibile e sigillata, il gioco ora si svilupperà in questo modo qui, vi mostro che c'è qui la mia bacchetta magica, io prendo il foglietto, lo stesso faccio per la bacchetta magica e uno, due, tre, bastano tre tocchi con la nostra bacchetta e la moneta è sparita, poi per farla tornare basta ripiegare come prima, così, così e così, si gira, si schioccano le dita e la moneta ricompare, è figo, è parecchio semplice, ciao ragazzi, poi via, vi faccio vedere come si fa, al prossimo video.